o stai nuovo steve oro brus per quanto ti amo la chiamata quindi la ragazza per quanto è stato quasi brucia fatto con il bro avete fatto che ti era capito buono se vede bene se non abba alla cittadina che è vero e quindi proseguire l'unix trovo di un po' molto ridi e poi chiesto qua si vabbè non vuoi essere trap nagro non so capite che sono tutte nagro tutta la partita si vabbè ma chiesto qua non c'è la ma fan di me è su una... cioè le falle di... di me è un trottino eh quelli piaciute che tanto vuoi se veramente quello non c'è 14 cosa se quello sei sempre no 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 allora come si fanno le missioni 9 ero cura è incredibile impidacoli oh è tutto allora come ti fanno soltanto difficili poi ero fatto due tipo a caso 5 5 no bravo e frutto il bravo e frutturato oggi o dai un po' pulite vai ed o ammazzo 3 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 6 5 6 5 5 5 6 6 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 9 9 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 14 un pomeriggio spavolta ma non paredo no 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 fai il mio apacheco di spazio ha aggiunto macchina registro scritto il mondo altro po' orduo di counter la moto ma perchè no la bici come cazzo o aprizzata poste il falco di cognitore testa ora voglio voglio fare si manda la rossa arco la rosa se non mi ti dà 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 se non mi dà non mi dà la testa no perché io ho visto un fai ma parola come vincere per il mio amico no ma io da ieri e roma per me non mi c'è l'ora per favore dal coro ciao spazio stai per fiato e che hai visto la pia per anno n non è un'idea valutazione e non ci chi non c'è se te l'unice in io allora la prima su scuola pizzo e lo so ti senti a gioco piccoli sette se la donna progetto ammetto ammetto non sono volentieri sono carico ma di calzardo al mondo il nuovo live al mondo si provo a lei ma lui non lo salva direttamente avrei di fatti chi c'è dentro il mondo non va a ripassare per l'esame no non c'è una vera ma l'ho già ho già fatto non sono avvantaggiato ci voglio anche per domani sono avvantaggiato vedi che sono chi te la chiesa è vero è vero è vero è vero guarda che se la fan di Messi non c'è più fan di Messi è andato via ma ti incontrano i fan di Messi e marcelo martello il fan di Ronaldo e ciao se qualcuno mi ammazza ammazzocare di lunedì io ho un cane si ce l'ha un cane la sorella la sorella la sorella ce l'ha un cane se parli di mia sorella allora qui no uè però eh tu ti sarei via quello poi io ammazzocare io ammazzocare che cazzo stai facendo eh beh eh eh oh che cazzo stai facendo ce le pompe nooo bro easy bro ahah c'è a cazzo c'è ti ritiris un pezzo di merda per averla la mosca è stai a io io ho fatto tutto le raffanze vt r r r r sono morto i campfire campfire sono con grande fra e fin qui perché vogliare molto sì, ci sei io, perché provassero let's go no, c'è il martello è distrutto muori tu vincere mai non so se si siamo capiti o mi fai vincere o mi fai vincere sono morto 5 di vita quasi eh beh, da oggi dicevo a città, il sbolo solo personaggio il libro alla valla 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 non c'è un'altra cosa come ha fatto a morire fra il francello ci sono e chissà ma allora i arassoio ho sentito dei suoni alquanto discutibili allora, non è come sembra e eh ma 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 fa diversi veramente ogni tanto sento diversi abbastanza su mh ma perché c'è un tempo qualcuno in casa poi io mi sto chiedendo ma cosa vede a chi piacciono le bombe tra di voi ma ci cd oh no 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 guardia bravete caro salva il mondo vai ti bombarda bravo no ah 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 ma ma chi è che lascia le bombe era molto agli armi eh eh chissà chi è no non c'è è già morto però le bombe non c'è te chiaro cosa sono morto con l'ordine al gioco non è possibile non è possibile credo devi dirlo a presto cagare c'è chi va a presso il gioco il giro hai visto lanciare le bombe l'altro da te se hai mai visto ma c'è una giornata non ci sto facendo una sega ma chi è che ha lanciato le bombe io la sega la 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 va a qualcuno la la guarda lì non mi rompe le coglioni ma manco ce l'hai come fai a romperlo ma il fango lo voleva fare cosa stai stendo ragazzi vengo pure io SARTIO eeeh 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 o eeeh 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 4 non mi spero cosa è la buona. ma che cazzo molto buona ho fatto 104 no se non è buona la storia bomba e che c'è caso ad esempio da la sua testa si va bene per i miei liti che vabbè ho frangene assomare per lui inizia per me è il numero di amparterti occa ma come fa per stambulino e anna di che signore che si vuole ma io ero è ecco oggi è voglia non mi ha mai mai faccio il porto aspetta 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 alimentare ok amore ii vai alleanze di un giorno abbetto buoniero mi sta sparando oltre occhi la festa cazzo cazzo è vai uuuu vai dai roma non so quanti smitragliati che ho dato non vado più timbare basta ticchiamo tutti contro contro l'umiz stimo tutto contro l'umizzo con l'umizzo e allora cosa è uscito farsi conti non ci vedi farsi posto non c'è più ma chi non farsi no il fatto non capito da dove andi a casa mi cascino a te lo dico il mio attuale a te lo dico si lo devi colpire come se non lo vedo per favore fatto no 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 e va giù no anche di me fatta finocchio pronti se vabbè 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 livelli di riporti sticato da volo camola sede ma tu scoppiasse un pelato stavolo per spazio da quanto sono per auto stese sempre Edo lo so che mi stai puntando però se Si ma sta calmo Mi ha abbassato Si ma capito ma anche tetto è vero che mi stai puntando però non è che mi sembra Che è molto sicura Ma aspetta ma che cazzo di cecchino di merda Ma lo sta andando ammazzando io un corpo Tu ti cecchini ti muociotto non muori Ma che cazzo dici Ti ho preso in testa zio Ma che ti ho preso in testa che cazzo vuol dire